In questo momento non ci sono problematiche, loro sono fermi, la protesta in atto che portano avanti da ieri sera, che non è cessata e non vogliono fare entrare i pasti e ovviamente non sono tutti d'accordo, però ovviamente i gruppi che sono d'accordo e che non sono d'accordo riescono ad imporre ognuno la propria volontà e diventa difficile gestire la situazione. Come diventa difficile il dialogo? Io credo che si smonterà la questione, siamo una collettività, siamo un paese, siamo uno Stato democratico, civile con una fantastica Costituzione, quindi questi sono i nostri fondamenti, però si sta dicendo da mesi per non dire da anni che dovremmo dividerlo il sacrificio dell'ospitalità. Il prefetto di Venezia, Cuttaia, che è appena andato via, ma il nuovo ha gli stessi identichi principi che credo abbia già affermato con gli organi di informazione. La distribuzione sul territorio, secondo un principio condiviso da tutti quanti, poteva essere una soluzione. Gestire 50 persone è sicuramente diverso che gestirne 1400. È sicuramente una situazione complessa, ma credo che anche se mettessimo insieme 1400 persone di nazionalità diverse, anche di altri continenti che non siano quello africano, non sarebbe comunque una situazione semplice e facile da gestire, soprattutto quando sono in sofferenza, perché lontano dai cari, fuggiti da aree difficili, di guerra o di sopraffazione, di fame. Quindi, ripeto, questo deve essere sempre il punto di riferimento per chi fa questo mestiere di poliziotto, di gestore dell'ordine pubblico.